E' uscito un comunicato sulle vostre pagine Facebook che ripercorre un po' il vostro pensiero a riguardo delle tante cose e voci ed espressioni comuni su questa vicenda, quindi qual è la vostra voce a questo punto ufficiale? Rispetto all'ennesima interrogazione fatta dall'opposizione, dal centrodestra, noi abbiamo sempre lasciato correre perché sappiamo come una buonissima parte della città è consapevole che una grandissima parte delle accuse che ci vengono rivolte sono assolutamente strumentali e finalizzate solo ad attaccare l'amministrazione comunale, veniamo noi usati per fare opposizione in sostanza, quindi su questo abbiamo sempre lasciato correre, dopodiché è chiaro che ci sono delle accuse assolutamente infamanti, ancora oggi qualcuno sui giornali continua a dire che siamo abusivi, invece c'è un contratto regolare da più di due anni, quindi una legittimità sociale ce la siamo già conquistata con le attività che facciamo. D'altra parte c'è stata anche nel marzo scorso una sentenza che ha in qualche modo sancito anche la nostra bontà dell'iniziativa intrapresa perché siamo stati anche assolti dall'accusa di occupazione abusiva. Però c'è una scadenza prossima che riguarda questo aspetto, come vi state approcciando a questo giorno? Da questo punto di vista il contratto che ci è stato sottoposto e che noi abbiamo firmato, quindi sottoposto dall'amministrazione comunale, parla chiaramente di trovare una sede alternativa nel momento in cui venissero meno le condizioni per stare in questo stabile. Per garantire una sede alternativa la locazione deve essere idonee alla continuità delle attività che vengono svolte qua. Quindi da questo punto di vista qua noi abbiamo sempre dato la nostra massima disponibilità. Ribadiamo la nostra disponibilità anche a spostarci da questo stabile, dopodiché chiaramente aspettiamo una proposta concreta dall'amministrazione comunale, da qui appunto al 31-12 anzi invitiamo l'amministrazione a fare queste proposte. Noi stiamo anche lavorando a delle proposte da poter fare noi all'amministrazione quando sarà il momento che ci sarà un tavolo di confronto. Ripeto, non abbiamo nessun problema a spostarci, dopodiché se mancassero le condizioni il posto ce l'abbiamo, rimaniamo qua.